Altra proposta, Non ho tempo, racconti brevi per trovarlo, edizioni FD, la scrittrice Isabella Rosa Pivò, sono tanti racconti ma mi sembra giusto lasciare la parola all'autrice. Non ho tempo, racconti brevi per trovarlo, è una raccolta di racconti molto brevi, eterogenei, da una manciata di minuti, dei flash di luce quotidiana in una stanza buia, che mirano a ritrovare il piacere di una lettura anche quando pensiamo di non potercelo permettere, in coda imposta, in attesa dal medico o quando un'amica è in ritardo. Invece di tirare fuori il cellulare, ecco che abbiamo una bella scusa per ritrovare la nostra fantasia.